Cambio al vertice del comando provinciale dell'arma dei carabinieri di Benevento. Dopo tre anni lascia il colonnello Germano Passafiume che andrà a guidare il centrolingua estere dell'arma di Roma. A Benevento arriverà il tenente colonnello Enrico Calandro. Il numero uno del comando provinciale ha voluto salutare il Sannio e dopo aver rimarcato come Benevento sia diventata e resterà la sua seconda casa. Anche per continuare a seguire il Benevento Calcio ha voluto tracciare un bilancio. Contraddistinto anche dall'emergenza sanitaria. I miei carabinieri, i vostri carabinieri hanno lavorato bene nell'attività quotidiana di prevenzione che a volte è meno pubblicizzata ma è costante. Massima attenzione ai reati predatori e alla violenza di genere. È emerso un dato che prima era nascosto ovvero quella della violenza soprattutto nelle mura domestiche. Ecco il protocollo che è stato firmato, il codice rosso, ha dato la possibilità a queste persone di prendere coraggio e di dichiarare, di denunciare le situazioni che erano magari sommersi, incancrenite all'interno delle mura domestiche. Occasione anche per salutare il tenente colonnello Leonardo Madaro che lascia la compagnia di Montesarchio per un prestigioso incarico a Napoli. Al suo posto il capitano Virginia Coni. Cambio al vertice anche per il nucleo investigativo. Lascia il tenente colonnello Alfredo Zerelli e subentra il tenente Francesco Nigro.